Alessandro ha citato che il progetto è composto da più cose, quindi da eventi e anche i corsi. Quindi abbiamo Giuseppina Biondelli che ci illustrerà il corso di educazione finanziaria e Maurizio Poli che invece ci illustrerà un convegno che faremo molto presto perché sarà nella prima quindicina dei giorni di novembre. È il convegno Arte e Finanza, di cui poi vi manderemo dettagli e vi manderemo anche l'invito. Anche l'invito. Certo, di Tartasso. Non si bada. Stolcherizzi. Buonasera a tutti, benvenuti anche alla presentazione dei corsi. È ormai una tradizione essere con Alessandra. Grazie Alessandra che ci dà anche questa opportunità. Otto anni, come diceva il direttore Alessandro Rossi. Otto anni, Giuseppe. La rubrica. Quando si si diverte il tempo vola. piccoli concetti di educazione finanziaria che ci aiutano a difenderci dal gatto e la volpe che è sempre dietro l'angolo. Che mettete qua il vostro soldino che diventerete ricchi. Uno degli argomenti che vengono... Però la conoscenza di qualsiasi corso che farete qui all'Università Popolare di Cremona nessuno poi ve la porterà mai via. Conoscere, come diciamo sempre noi, è per decidere. Quando uno ha la conoscenza può decidere. Quindi mi piace molto lo slogan anche a me di quest'anno dell'Università Popolare di Cremona perché la Giuseppe ha inventato vari format economicamente, finanziariamente. Qui la mente viene aperta. Quindi molto bello. Complimenti Alessandra. Presenteremo questo incontro. Faremo arte e finanza sempre a Palazzo Cattaneo. Mios Casali. Adesso i primi sto... Balbettiamo un attimo sulla data perché quest'anno il mese di educazione finanziaria è stato spostato dalla Banca d'Italia dal mese di ottobre al mese di novembre. Per noi è meglio. Per noi è meglio, certo. Certo, però mettiti a me che io avevo detto oh vieni, vieni in ottobre. Questi mi hanno detto cosa è novembre. E invece quest'anno è novembre. Lo candidiamo al sito del quellocheconta.gov.it quindi sarà uno degli eventi che vengono fatti in tutta Italia ufficiale col patrocino Mondo Padrano, Università Popolare. Ci sarà il professor Alex Ricchebono che viene da Milano che è un bravissimo docente è affascinante per quanto riguarda anche la storia della moneta ma ci parlerà dell'arte quindi l'arte nella moneta. Una bella cavalcata di un'oretta molto simpatica e ci sarà la Giussi che ci sarà due dati anche dal punto di vista operativo dell'arte. I numeri sono numeri? I numeri sono? Toccano sempre a me i numeri. I numeri toccano sempre a lei. Si svolgerà più o meno dal 18.30, 19.00 un'oretta, un'oretta e mezza un piccolo aperitivo alla fine così conoscete anche i docenti una cosa carina mi invito a partecipare perché è una cosa un po' diversa i concetti dell'arte e della finanza è una cosa diversa con Alessandra abbiamo fatto vino e finanza purtroppo vi è andata male quest'anno c'è arte e finanza non lo facciamo più perché dopo ci hanno chiuso col covid esatto dopo ci hanno non lo facciamo più io sono scaramantica sai com'è si è vero ci hanno chiuso dopo il 19 ci hanno chiuso ne abbiamo fatti altri però si però insomma vine finanza va bene va bene non lo facciamo più vi aspettiamo sarete sul sito della pagina di facebook Università Popolare di Cremona mi invito a iscrivervi la diretta adesso c'è le notizie poi l'Alessandra le manda con le mail è puntualissima è divulgatrice è sostenitrice della cosa tanto grazie a tutti di essere alla presenza lascio la parola a Giussi vi aspettiamo arte e finanza a novembre nei primi 15 giorni di novembre sarà opere preciso settimana prossima sulla data precisa perché i docenti mi stanno un po' scappando tutto qua grazie della pazienza grazie Alessandra